Oggi vi proponiamo un circuito calistenico base, abbiamo già il maestro in posizione. Ora partiamo con 10 pulata alla sbarra, circuito base, va bene anche per i principianti, principianti come il maestro. Ok secondo esercizio, vediamo i dip, i 10 dip alle parallele. Adesso partiamo con i Dragon Flag, tre colpi di Dragon Flag. Asciccate di tenere il corpo bene in linea, bravo, così come fa il maestro, easy. Ok quarto esercizio, abbiamo 10 chin up, la sbarra sempre. Con la potenza il gorillone che spinge. Ok adesso siamo ai push up, il push up ha preso a larga, sempre 10 colpi. Ok arriviamo all'ultimo esercizio, abbiamo il leg raise alla sbarra, 10. Ok ragazzi, ripetere questo esercizio per 4-5 volte di fila al circuito. Se non riuscite a fare 10 trazioni o 10 pull up, fatene meno, poi man mano riuscirete. Forza e coraggio. Ok, let's go. Ok. 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 Funturale. Basta bite. Ok. Ok.